Ce l'avevi creduto? No? Perché è il primo aprile! E allora perché hai aperto il video? Adesso metto tipo 8 minuti di buio, così almeno il video sembra reale, 8 minuti e 10 così, che è la durata media di ogni mio video. Che poi, tra l'altro, mi hanno scritto nei commenti o su Instagram Ragazzi, ma tutto bene? Ma avete il qui in negativo? Anche su Instagram? Ma che cazzo? Comunque, come state? Tutto bene? Che raccontate? Io ci sono cascato, mi sono svegliato stamattina, ho aperto Instagram e ho visto cose del tipo Arriva Ghost Tsushima su PC Ho detto, cazzo, finalmente posso giocare a un action, open world, che bello Le informazioni, non trovo un cazzo su internet di informazione nulla, il vuoto E poi, da appena sveglio, realizzavo che mi avevano trollato E allora prendo la palla al balzo E vi chiedo A parte in questo video, che sicuramente c'è E non tanto lo so che nei commenti Io non gli ho caccato Non capisco perché l'ho aperto L'ho aperto perché va chiaro a chiedere Va bene, va bene, sei fighissimo Però Il pesce d'aprile, che cazzo serve? Cioè io lo faccio perché Vabbè Faccio un po' di visual Il video non me l'ho manco monetizzato Io ho tutta la monetizzazione perché è inutile Non c'è impegno, sto solamente parlando Anche se c'è gente che, devo dire Hard block, quindi guadagno comunque un cazzo Oppure Ma che palla, mi sono appena svegliato Andate in pace Grazie 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 Minchia che buoni i pidini Grazie a tutti 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 Grazie a tutti